Dicevi? Io sono della vecchia guardia. Dicevi? Chi sono? Chi sono? Tu riprendi tutto. Eh certo. Allora, loro sono dell'associazione La Gergenti Maiene, l'associazione locale che ha organizzato oggi il carnevale. Andrea, Samuele e Mirko, presidente, vicepresidente e un altro del direttivo. Io però ti volevo, lui è Claudio Saltarelli, il promotore del comitato Pulcinella. Dopo, più tardi, ascoltiamo le interviste delle persone anziane di Gergenti che parlavano del Pulcinella di Gergenti. E' una regista. Che è lui oggi, praticamente. Poi, lui, oltre a questo, lui è anche il presidente di un'associazione che si chiama Alta Terra di Lavoro. Di Cassino, diciamo, nella zona di Cassino. Il 21 saremo qua, lì? Eh, che il 21 faremo una cosa qua, sul mille... Il 21 marzo. Diciamo che studia i briganti, le insorgenze borboniche. Del 99 e del 60. Allora, io gli ho detto che qui, appunto, il capo insorgente borbonico del Cicolano, Luigi Busi, è stato impiccato a Gergenti qua sotto, praticamente, dove passeremo dopo. E il conchine passava... Ecco, guarda, là è stato contificio, qui è il regno, quella montagna là dietro è stato contificio.